il power smash scappa di nuovo all'antina vivo questo è un impone il power smash diciamo che ci riesca abbastanza senza usare tanto di allora mi pare che non metto veramente il 2x6 è stata abbracciata perché non lo fai così è già ma poi non lo fa il 65% di smash si chiama la moda di maggior parte è un po' è un po' è un po' è un po' quindi non è che non è non è ma poi è un po' qua non è arrivato il giorno è ma non 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 è ma c'è una cosa in banca c'è il san paolo ma te metti te più dietro dopo grazie 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 bravo tu grazie 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 a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.